Saremo presenti in oltre 400 punti vendita in tutte le marche per sostenere la popolazione marchigiana più debole, oltre a quel che già viene fatto quotidianamente al Banco Alimentare con gli aiuti umanitari che provengono dalla Comunità Europea e dal Fondo Nazionale. Cercheremo di riconfermare i numeri dell'anno passato e grazie al supporto degli oltre 3.000 circa volontari che saranno impiegati in tutti i punti vendita aderenti all'iniziativa. Su Pesaro provincia sono oltre 100, 111 per l'esattezza, e coinvolgono un migliaio di volontari solo in questo territorio. A livello regionale sono 400 supermercati e ovviamente arriviamo a quasi 5.000 volontari perché lo sforzo, l'impegno per coprire tutti i turni all'interno dei vari punti vendita è molto importante. Per questo chiediamo a tutti questo gesto concreto, per aiutare il Banco Alimentare si può essere volontari con la pettorina arancione, quindi chiedere alla gente di donare la spesa al Banco oppure fare la spesa. Tra l'altro questa è una grande occasione, la giornata nazionale della colletta alimentare che è organizzata dalla Fondazione Nazionale Banco Alimentare, è la giornata in cui emerge la nostra opera, il nostro lavoro, che esiste e opera ogni giorno dell'anno. Quindi è un modo per noi per ripresentarci alla comunità territoriale e aderire alla giornata mondiale del povero, come Papa Francesco appunto richiede a tutte le associazioni, a tutte le organizzazioni e quindi far capire esattamente che il nostro ruolo, il nostro compito è quello di fare da ponte tra il bisogno e la povertà, quindi il cibo donato e le persone in difficoltà. Quindi questo cibo che noi riceviamo in dono il giorno della colletta e il cibo che raccogliamo tutti i giorni dell'anno viene infatti distribuito gratuitamente alle associazioni caritatevoli del nostro territorio, che sono circa 300 nella regione Marche, che a loro volta servono il bisogno di oltre 43.000 persone. Volevo però ricordare e ringraziare delle presenze importanti nella giornata della colletta, perché si mobilita tutto il mondo della comunità territoriale. Tutte le squadre sportive partecipano come volontari al nostro gesto e quindi il calcio, la Vis Pesaro piuttosto che l'Ital Service Calcio a 5, tutta la squadra rugby al Conor 900. Quindi abbiamo veramente la mega box volley di Montecchio, quindi abbiamo anche una partecipazione molto importante degli atleti, delle squadre, che sentono in maniera molto forte questo gesto, perché è un gesto di solidarietà che è per tutti. Quindi invitiamo tutti a fare un gesto concreto insieme. Donate la vostra spesa al Banco Alimentare.